Ciao Raffaele, buonasera, mi fai un hot dog? Sì Patizio, come te lo faccio? Raffaele, fammelo a piacere tuo A piacere mio? Ma di fede di me? Raffaele, io mi fido solo di te in questa vita Dei di tu, mi fido di te, vai! Usta è ben cotta Poi, bibì, metto ketchup Ora metto la mapponese Poi, patatina e pasta Poi, cipolla Questa che cipolla è, Raffaele? Più buona del mondo La cipolla croccante questa è Ma ce lo faccio Formaggio paligiano Ma ce lo faccio? Formaggio paligiano Paligiano Ce lo mettiamo Mamma mia, come sei bravo Ce lo do, fammi vedere come Non lo fanno Ce lo fanno E ce lo metto Ora, questo Ce lo metto Il pepe, guarda il pepe No, è il pepe Il barbecue? Il barbecue Il barbecue Il barbecue Il barbecue Il freddo di me E non so La rosa? Sì Se non ti piace Stai sentendo mani La cipolla La veniamo ad assaggiare Fammi vedere Raffaele Come l'ha fatto Ben cotto Ben cotto Assaggiamo Dai Ma Ma Proprio Buona Par lock Qui Sì Se ne mostro Ragazzi I No Però Grazie.